Non il solito pacchetto è un regalo per Natale, questo è impacchettato in modo un pochino più originale e con materiali di riciclo. I materiali sono il nostro regalo già impacchettato con una carta il più neutra possibile, dei timbrini e della lana colorata. Il primo passaggio, dopo aver già foderato il libro con della carta coloramana o comunque della carta di riciclo, è quello di timbrare la carta con il timbrino che preferiamo. Questo è un lavoro che possono fare i bambini. Poi, invece di utilizzare il classico nastro da pacchi, utilizzeremo della lana colorata, ma non faremo dei giri intorno, faremo un semplice nodo da tagliare molto stretto. Quindi io faccio un nodino doppio e lo taglio subito verso il nodo, così. E faccio la stessa cosa anche con l'altra lana colorata. Ed ecco qui il lavoro finito, un regalo di Natale impacchettato in modo molto originale. Grazie. 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 Grazie.